Se volete votare per gli Homo Sapiens, vediamo, 2, 3, 6, 9, 11, 4, 15 e 2, 16. Vogliamo votare per il Santo California? Buonasera, Radio Bucharest ha dato un'ora fa il primissimo bilancio delle vittime accertate del tremendo terremoto che ieri ha sconvolto la Romania. Vedo sul mio monitor che Giorgio Bubba a Sanremo è pronto per il collegamento con molta gente attorno, quindi cediamo subito la parola a Giorgio Bubba. Siete appunto collegati col Teatro Ariston di Sanremo, dove da pochi minuti si è concluso il 26esimo festival della canzone italiana. Ha vinto un complesso, un complesso toscano Homo Sapiens, 3 giovanotti di Pisa e 1 di Prato. Secondo si è classificato un complesso Sardi Collage, terzo un complesso del sud di Santo California. Il Big Day Big Domenico Modugno, Mimmo, il RAS di Sanremo, come è stato definito, ha partecipato e ha presentato una nuova canzone, vero?